Di fianco, si vede di meno quello, si ruba la cena, ragazzi, dal scenario. Però metterla dietro e l'uva... La, secondo me, non è, secondo me, è strana, è la mano che ci fa, è la meglio, è il padre che riesce a capire. La, secondo me, non è, secondo me, non è, secondo me, non è, secondo me. Non è, secondo me, non è, secondo me, non è, secondo me, non è, secondo me, non è, secondo me. C'era ovviamente uno bianco, e c'era delle macchine grosse, così, uno che ha preso, erano proprio delle scade di insumo di pomodori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.